Fere e Basta, pseudonimo di Gianna Dabboschetti, nasce a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992 e da subito si afferma con la pubblicazione dell'album Per Davvero. Farà uscire, grazie al produttore discografico Charlie Schultz, altri entry album. Sfere e Basta, Rockstar che sale alla top 100 della piattaforma musicale di Spotify. E poi infine farà uscire Popstar che è uscito in questi ultimi mesi. Poi Sfere e Basta sicuramente sta dando un'ispirazione a tutti i giovani perché ha dato la dimostrazione che uno come era lui, uno di strada, può arrivare a quello che è lui, un cantante trapper. E quindi questo ha dato molto significato nei giovani.